Lorenzo Galligani non si è dimesso. Il consigliere comunale di Pistoia, capogruppo di Fratelli d'Italia, al centro di una vera e propria bufera per un post sulla vicenda del rapimento della cooperante Silvia Romano, pubblicato sulla propria pagina Facebook e rimosso pochi minuti dopo, è stato al centro di un'accessa discussione avvenuta nell'ultimo consiglio comunale, sia pure in videoconferenza. Nell'infilice messaggio dello scorso fine settimana Galligani aveva auspicato il desiderio di vedere uccisi i rapitori di Silvia come cani rabbiosi, insieme ai loro familiari fino al sesto grado di parentela. E le gravi espressioni contro la comunità islamica non erano certo passate inosservate, tanto che parole di indignazione erano arrivate un po' da tutta Italia. E oggi a parlare per primo è stato proprio l'autore di quelle parole che si è scusato confermando quanto scritto il giorno precedente nel tentativo di cercare di correggere il tiro. Lorenzo Galligani ha ribadito di aver utilizzato toni e linguaggi eccessivi ed eccessivamente provocatori, rendendomi subito conto che quella sprezza avrebbe potuto urtare la sensibilità delle persone. Tengo a sottolineare, aveva aggiunto, che il mio unico intento era quello di tracciare una linea netta tra tutti noi e i terroristi, tra noi e i rapitori di Silvia Romano. Contro di lui però si sono scagliati subito i gruppi di opposizione chiedendo di lasciare qualsiasi carica politica. Critiche sono arrivate anche dalla maggioranza che tuttavia non ha pensato ad un suo avvicendamento. Critico ma senza eccessi è apparso anche il sindaco Alessandro Tommasi che ha sottolineato come il consigliere abbia sbagliato ed è giusto che abbia chiesto scusa, ma ha anche ribadito che la persona deve essere giudicata sul lavoro che ha fatto e sul contributo che vorrà dare. Per la cronaca Lorenzo Galligani è stato pesantemente minacciato anche di morte, come ha detto lui stesso, tanto che tuttora la Dicos sta vigilando sulla sua incolumità.